Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi sono qui per portarvi quella che è stata la mia esperienza dopo aver testato questi tre TOTS, ovvero Adama, Son e Bambissaka. Ho tryhardato un po' in maniera pesante all'interno dei draft per farmi riuscire e cercare di andare ad analizzare e questo è stato il risultato e la mia esperienza di gioco. Direi di partire subito dal buonadama che abbiamo già visto in precedenza nell'analisi che ho fatto sul canale di tutti i TOTS, presenta 4 di skill e 3 di piede debole, dunque un levissimo upgrade. E per quanto riguarda le statistiche, di fare un breve discurso visto che le abbiamo già viste. Per quanto riguarda la velocità, questo vi posso dire che in game si sente ma non risulta essere mai così scattante e così agile. Questo perché? Innanzitutto perché ha 99 di forza, innanzitutto perché ha 67 di reattività e poi anche perché ha un body type molto strano, un body type bassino sì, maciotto. E' come se fosse un muriel un po' più chiattoncello. Di conseguenza, visto che comunque deve andare a fare roll in fascia perché roll in generali con i piedi debole per me proprio non può farli, io ve lo sconsiglio caldamente perché in fascia sì è vero che sicuramente corre, sicuramente fa sportellate con tutti, ma il fatto che risulta veramente pesante per me è limitante in quanto sulla fascia, almeno per quanto mi riguarda, preferisco dei giocatori agilotti con i quali posso saltare l'uomo, girare, tornare indietro, servire la punta, magari poter anche arrivare alla conclusione. Quando è arrivata alla conclusione costo a dama, io vi assicuro che ok la 99 potenza tiro ma con l'82 di finalizzazione si sente. Inoltre per quanto riguarda anche il discorso degli assist, il parametro di 73 di lungo per un esterno si fa sentire e rischia di essere un problemino. Inoltre io sto a dama, l'ho trovato molto simile alla versione scrim e secondo me non è giustificato quello che è il cambio di prezzo tra i due giocatori e quello che è il ruolo, secondo me, che comunque continuerei a far fare questa dama è il super sub, qualora magari lo piccate o lo trovate non scambiabile, insomma. Non mi sognerei di metterlo titolare per i motivi che vi ho descritto e anche per il treppiede debole che sapete che quest'anno rende le carte totalmente fuori meta. Quindi per adama è tutto, andiamo avanti, passiamo a home in zone che come al solito ha 4 di skill e 5 di piede debole, quindi statistiche sicuramente in meta. L'upgrade in velocità si sente tutto, io l'ho provato sia ad esterno che in posizione centrale e vi devo dire che l'ho amato in posizione centrale perché rispetto agli altri zone questo ha ricevuto un boost pazzesco per quanto riguarda l'agilità, questo finalmente si gira. Difatti lo potete vedere all'interno delle stats, vedete un 94 di agilità, un 83 di equilibrio e un 98 di reattività nonché un 96 di controllo palla. Lo rendono sicuramente un giocatore letale all'interno dell'area di rigore con il quale potete girarvi sia sul destro che sul sinistro e potete stare tranquilli che questo sonno ve la butta dentro perché ha 95 di potenza tiro e 97 di finalizzazione, scusatemi il contrario. Comunque fatto sta che questo finalizza che è un piacere, mi sono piaciuti anche, vi devo dire, i tiri a giro. Poi sapete che sono un amante del drag back, ecco infatti ha l'attributo tiro a giro, neanche a farlo apposta. Sono un amante del drag back, questo sonno il drag back lo fa in una maniera comunque, devo dire, ottimale e soprattutto dopo il drag back il tiro a giro di sonno era veramente OP, è una combo che spesso utilizzo quella del drag back e del tiro a giro e questo sonno veniva particolarmente bene. Anche per quanto riguarda i passaggi non ho riscontrato problemi, di fatti 97 di corto e 82 di lungo comunque parlano per lui. Quindi il buon sonno è promosso a pieni voti, il prezzo sì è un po' altino, ma vi ripeto, comunque in quella posizione lì per quelle cifre un attaccante così valido, potete sì andarvi a prendere Dalglish, La Gazette, Foot Birthday, Butraghenio, eccetera, ma secondo me sto sonno rischia di essere un po' più meta arrivati a questo punto del gioco rispetto alle carte che vi ho indicato precedentemente. Per quanto riguarda invece Van Bissaka, questo era uno dei giocatori che ero più curioso di provare, perché avevo provato la versione Want to Watch ed era molto forte e questo mi sembrava veramente worth, almeno statistiche alla mano, 4 skill e 2 piede debole. Quello che è il problema secondo me enorme di sto Van Bissaka è il fatto che non ci puoi fare un passaggio, perché veramente non riesci mai a trovare l'avversario, a trovare il proprio compagno, ma trova sempre l'avversario. Anche in termini di velocità ho fatto fatica ad andare via sull'esterno e inoltre in fase difensiva l'ho trovato un po' indisciplinato. Ho preso parecchi gol perché sull'esterno non seguiva l'avversario e non faceva quasi mai la diagonale, lasciandomi scoperto. E questa è una cosa che odio, perché sì è vero che comunque mi piace andarmeli a selezionare tutti i giocatori, ma comunque se il terzino ti fa una diagonale e si trova già messo in posizione per essere selezionato, male non fa. Inoltre l'ho trovato anche abbastanza macchinoso, palla al piede, infatti quel parametro di agilità viene, tra virgolette, annullato all'81 di equilibrio, dall'86 di reattività e dall'81 di forza, nonché da un po' di type, anche qui. Quindi basso è abbastanza non ciotto come adama, ma comunque non longilinio. Quindi diciamo che se gli devo dare una valutazione da 1 a 10 a Stovambi Saga darei un 6,5 vorrei, ma non posso per il buon Aaron. E nulla, quindi per quanto riguarda l'analisi di questi tre giocatori è tutto, fatemi sapere se voi li avete provati, fatemi sapere se vi trovate con quella che è stata la mia analisi. Io vi do appuntamento, raga, ogni giorno dalle 12 alle 6 su Twitch e vi do appuntamento qui per un prossimo video. E nulla, raga, un salutone and peace.